Mie care fanciulle, ma anche miei cari fanciulli, perché questa è una cosa che ci riguarda tutti, fatevi una domanda e datevi una risposta. La domanda è questa. Nella scelta fra avere una relazione e la mia dignità, che cosa scelgo? E, aspettate, lo so che a tutti quanti viene da rispondere spontaneamente, oh ma io scelgo la mia dignità. Ah ok, allora perché il tuo ultimo fidanzato ti utilizzava come zerbino fuori dalla porta? Ah ma quello è un caso diverso! No, è proprio quello ciò di cui stiamo parlando. Già la semplice consapevolezza di essere disposti a mettere da parte la propria dignità, pur di avere una relazione, vi assicuro che è un primo passo importantissimo. La consapevolezza per risolvere un problema è fondamentale, poi non è che domani vi bussa alla porta il principe azzurro, se capite questa cosa qui, ma la prossima volta che qualcuno vi tratterà male, vi suonerà in testa un campanello d'allarme e non succederà quello che probabilmente è successo fino ad adesso, che qualcuno vi trattava male e voi vi sentivate addirittura in colpa, perché magari eravate state voi a farvi trattare male, metterlo nelle condizioni. No, voi avete una dignità che in ogni caso, sopra ogni cosa, va rispettata.